Quindi passiamo alla prossima band che si intitola Idle Good Vibration. Sono ragazze di caserta il cui motto è di sound retro e mentalità moderna. Idle non ha niente a che fare con l'Italia, è una parola giamaicana che vuol dire puro. Allora questi ragazzi hanno cominciato tre anni fa e il loro genere è Roots Reg. Hanno partecipato anche a un contesto europeo di reg che si intitola Rototom e ha prodotto un Elby che potete acquistare a costo di 3 euro qui da noi. Quindi vi presento, allora abbiamo la voce di Marco Vinciguerra. Un applauso a Marco dai! E il secondo gruppo di stasera siate calorosi. Chitarra Luigi De Vito, basso Roberto Caccavale, tastiera Marco De Francesco, Ciro Tiscione alla batteria, sax tenore Mario Esposito e tromba Giuliano Prochicchieri. E ancora i sax Giuseppe Giroffi. Quindi sound retro e mentalità moderna per Idle Good Vibration. Grazie a tutti! 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 Grazie guagliù, allora prima di iniziare il prossimo prezzo volevo ringraziare l'organizzazione di Meeting del Mare tutte le ragazze e tutti i ragazzi che si sbattono Oscar alla regia e tutti i guagliumi che stanno qui sotto a sentirci Adelgood Vibration, Bless Jussie, Roots Panets I See Grazie a tutti Grazie a tutti Adelgood Vibration Roots Panets I See Grazie a tutti 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 Grazie a tutti